Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale Trebbis-Tiberina ci sono rallentamenti per una nevicata in corso tra Val Savignone e San Piero in bagno in entrambe le direzioni. In A1 fare attenzione per neve sul tratto appenninico e ci sono nevicate in corso sui passi appenninici delle statali toscane. In A15 nebbia a banchi tra Berceto e Pontremoli, visibilità 70 metri. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Venturina e Rio Torto in direzione Roma. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per una frana tra Popiglio e La Lima. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!